Marchini è stato l'obiettivo mancato, però per quello che so io era l'obiettivo primario di Berlusconi, è stata la Miloni, la confusione addirittura di rompere dalla Chiesa, che prima ha detto dalla Chiesa, poi ha detto Bertola, poi se stessa, quindi la maggior confusione è proprio in lei, compresa le condizioni in cui è, che ovviamente non impediscono di candidarsi, ma limitano la sua possibilità di azione, non è una battuta bagliata di Bertolaso, è una cosa logica e sensata, quindi Berlusconi ha già proposto quello che oggi dice Casini e sarebbe stata la cosa più logica, perché si è avuto i voci di una coalizione che si è pure molto azzoppata, ma che ci sono ancora, e poi uno che ha dei voti propri, intorno al 10%, che si aggiungevano a quelli, ma se non capiscono questo, che è matematica, non è politica, è evidente che Marchini prenderà i suoi, quell'altro prenderà i suoi e la divisione porterà l'affermazione dell'unico che non è diviso, che è il gruppo di Cinque Stelle.